Ciao a tutti, io sono il Dilan Drogofilo, oggi recensione dell'album in sile numero 353, Il Generale Inquisitore, copertina di Angelo Stanno, molto buona soprattutto dal punto di vista dei cromatismi e delle sfumature di colore derivanti dal rosso, un'atmosfera molto accentuata, molto brillante che mi è piaciuta, Dilan ha rappresentato un filo troppo alla Rambo, bisogna dirlo, in un contesto comunque che convince Ritorante, una scena che troveremo all'interno di questa avventura. Prima di iniziare la recensione diamo un rapido sguardo al Dilan Drogofilo Club di questo mese, precisamente a queste ultime righe, dove Roberto Recchioni a quanto pare è tendenzialmente dislessico, vedete qui c'è il da col trattino, però dopo la parola non prosegue e anzi ci viene presentato un nome tutto attaccato, qui le parole non sono state staccate dalla virgola e qui nella quale Dilan si troverà capapultato, niente dopo di meno, vi invito a recuperare i film di Reeves, degli autentici giuglielli, io invece invito Recchioni a tornare a scuola per ripassare la grammatica e l'interpunzione al fine di colmare queste grandi lacune ortografiche. Testa sceneggiatura di Accattino e disegni di Casalanguida, Casalanguina non so come si pronuncia. Dilan viene assunto per indagare sulla misteriosa morte di Michael Reeves, nel mentre il nostro detective dell'occulto dovrà fronteggiarsi con una grandissima minaccia, quella del generale inquisitore che, ricalcante il panorama crudo e spietato della caccia alle streghe secentesco, andrà ad ammazzare alcune donne pregiudicate per l'appunto come streghe, adempiendo il suo dovere cinico. La trama si ramifica in due aspetti, entrambi interessanti. Nel primo troviamo una ricreazione violenta e realista del mondo dell'inquisizione. Nel secondo aspetto troviamo invece un racconto di fantasia dove Accattino ipotizza il modo e il perché il giovane regista Reeves è morto, integrando questa sua riflessione nel mondo di Dilan Dog, determinando personaggi dalla forte caratterizzazione, spaziando poi per scene semi-horror d'azione scandite da ironia e da originalità, riuscendo così a creare un ottimo ecosistema generale per una storia dalla presentazione continuamente sostenuta. I disegni sono di Casalanguida, sono indicativamente buoni. Abbiamo forse troppe miniature, come possiamo vedere qui all'inizio dell'avventura, i personaggi sembrano quasi tutti dei sette nani, vedete, sono stati rappresentati fin troppo in miniatura, spesso vengono rappresentati, disegnati dalla testa ai piedi, ma questo va un po' a restringere il personaggio stesso, anche qui vedete, insomma, non sono sproporzionati, ma una rappresentazione di questo tipo a me personalmente non piace. Ci sono degli interventi di Graucio in questa avventura, molto brevi, ma allo stesso tempo in compenso divertentissimi. Ci sono anche dettagli di sceneggiatura originali ed interessanti, che possiamo trovare a pagina, ad esempio, 59. Ci vado subito, come questa cinepresa. Ho trovato davvero dettagli di sceneggiatura e mi sono piaciuti, sono diversi dal solito. Sembra quasi di entrare in alcune situazioni inedite. Anche qui, vedete, sembra quasi di sbirciare questa coppietta che si sta parlando dalle scale di questo palazzo. E poi c'è un'altra che voglio farvi vedere, che a pagina 28, dove troviamo lo studio di Dylan, ha una diversa angolazione che mi è piaciuta davvero tanto. Questo tre quarti dall'alto, insomma, molto molto simpatico. Quel lettering di corda è molto lineare, ben schematizzato, molto preciso, un piacere da leggere. Di che cos'altro parlare? Del finale. Il finale lascia un filo di amaro in bocca perché Dylan non riesce in prima persona a risolvere il caso. Ma dall'altro lato, questa conclusione sposa perfettamente le linee guida dettate da Tiziano Sclavi. Dylan non è un supereroe. Spesso perde. Vi faccio vedere quest'ultima scena. Questa qui è davvero... è fantastica. È un qualcosa di strabiliante. Mi ha fatto quasi sorridere. Ecco, vedete, c'è questo filo di horror, ma scandito da tanta tanta eronia, perché ritrovarsi in una situazione simile è davvero allucinante. Una storia, tutto sommato, che convince abbastanza, forse, il mondo proprio di Dylan Dock. È stato posto leggermente in secondo piano, e questo è un aspetto che mi ha convinto, mentre la rappresentazione cruda, reale, di tutto questo mondo dell'inquisizione è stato davvero ben presentato da Cattino, in maniera più profonda rispetto al passato, dove l'inquisizione veniva visto più che altro come una metafora nel mondo di Dylan Dock e solo nel lato superficiale. Per il momento è tutto. Se questa recensione in qualche modo ti è stata utile, o se ti è piaciuta, condividila dove vai con chi guai. Voto finale che vado ad assegnare a questo alba è un 7+. Iscriviti al canale YouTube del Dylan Dockofilo per rimanere sempre aggiornato sul personaggio di Dylan Dock e noi ci vediamo in un prossimo video completamente dedicato al mondo dell'indacatore dell'incubo.